Buone notizie per le montagne biellesi, in particolare per quei territori meno conosciuti ma ricchi di risorse naturalistiche e di storia. Gli attori di questo nuovo cambiamento sono i Consorzi Turistici, che hanno iniziato a collaborare, condividendo obiettivi, esperienze e progetti futuri. Sono il Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo, Valli del Canavese, Vallemaira, Alpi biellesi del Consorzio Monterosa-Valsesia. Presentato il loro progetto di collaborazione alla Regione Piemonte, hanno avuto parere pienamente positivo, ottenendo l'assegnazione del punteggio massimo nel bando che finanzia le iniziative di promozione e commercializzazione del prodotto turistico. A questo proposito, il Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore allo Sviluppo della Montagna, Fabio Carosso, si è dichiarato felice di questo risultato, ottenuto attraverso un lavoro portato avanti con entusiasmo nell'interesse della montagna piemontese. La cooperazione tra territori omogenei è la miglior risposta della montagna ad una situazione di difficoltà che si protrae da anni e che è stata peggiorata ovviamente dalla pandemia. Una risposta fatta di azioni concrete per una collaborazione che proseguirà, pur rispettando le peculiarità di ogni singolo territorio, attraverso la partecipazione congiunta a fiere nazionali ed internazionali, a scambio di prodotti tipici, a pubblicazioni comuni, a proposte turistiche condivise.